Preziosissimi e 11 reperti archeologici depredati dall'Isis e rivenduti per finanziare la rete terroristica sono ora custoditi nella caserma Tofano a Nocera Inferiore. La brillante operazione è stata portata a termine dai carabinieri per la tutela del patrimonio artistico di Napoli e Roma e dall'ufficio delle Dogare di Salerno. Nella container scaricato al porto da una nave approdata nei giorni scorsi nello scalo di Salerno erano contenuti una maschera egizia d'oro, un sarcofago e la barca dei defunti, una riproduzione in terracotta di una barca con 40 rematori, bene quest'ultimo di inestimabile valore. Sono ora in corso accertamenti per risalire alla provenienza di questi pezzi che rappresentano solo una minima parte di quanto trasportato nel contenitore, anch'essi di ingente valore. Il tesoro come detto proveniva dall'Egitto, in particolare dal porto di Alessandria e dal contenuto all'interno di un container che viaggiava su un carico diplomatico, circostanza questa ora oggetto di un'approfondita indagine da parte della procura di Salerno. L'operazione conferma anche la centralità del porto nella rete internazionale dei traffici illeciti, specie nelle tratte di collegamento con il Nord Africa. La conferma indiretta che per il finanziamento del terrorismo islamico non vengono commercializzate soltanto armi, droga e migranti, ma anche opere archeologiche di inestimabile valore saccheggiate nei siti e poi vendute sul mercato nero. Sotto questo aspetto la caserma Tofano di Nocera, ora centro polifunzionale di eccellenza, dopo la firma con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ospita i reperti che saranno poi trasferiti in un secondo momento nei paesi d'origine dove sono stati trafugati. Grazie. Grazie.